Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi apriamo il giornale con una notizia di sport perché è successo qualcosa di particolare al Fano Calcio, ve lo diremo dopo. E intanto passiamo subito al manaco del giorno e vediamo il santo, eccola qua. Santa Polonia, Santa Polonia, Santa Polonia martire, subì il martirio durante la persecuzione di Decio, torturata. Le furono prima rotti tutti i denti e poi fu condannata a rogo, veramente atroce la fine di questa donna. E oggi la si vede come protettrice contro il mal di denti, quindi se avete un dolore in bocca sapete a chi rivolgersi. E dobbiamo dire che Santa Polonia ha una particolare venerazione anche nel nostro territorio, dove nell'entroterra esiste proprio una chiesa a lei intitolata Santa Polonia a Bagni. Ed ora vediamo le previsioni del tempo. Oggi il tempo è leggermente cambiato rispetto alla giornata di ieri. Ci sono delle nubi sparse, un po' su tutto il cielo delle Marche, con schiarite e tendenza graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. I venti saranno tesi e proverranno da sud, le temperature 12 la minima, 18 addirittura la massima, quindi non fa ancora affatto freddo. Insomma rimane questa temperatura mite, mentre il sole sorgerà alle 7.17 e tramonterà alle 17.25. Ed ora vediamo i giornali. Vi ho anticipato una notizia di sport, la leggiamo oggi sul resto delle Carlino. Russo ha venduto, Guida è il nuovo presidente. Eccolo qua nella fotografia. Si tratta di Salvatore Guida. Salvatore Guida è un personaggio che nel mondo del calcio è già noto per diverse operazioni che ha fatto con altre squadre. Per esempio è stato presidente del Grosseto per tre mesi, da settembre a novembre del 2022. E poi per avere trattato a inizio 2023 l'acquisto del Viterbese in Serie C. E infine a luglio scorso l'Arzachena, che è una squadra della Sardegna, che milita in Serie D. Ed ora è proprietario del Fano Calcio. Inizia dunque un nuovo corso, lasciando alle spalle tutte le diatribe che ci sono state tra la tifoseria e il presidente russo. Il presidente russo sappiamo come ha reagito in maniera che è stata ancora più contestata dai tifosi fanesi nell'ultima parte della sua gestione. Ed ora tutto cambia e tutto ricomincia. E vedremo ora come affronterà. Ci saranno anche dei debiti da pagare, perché ci sono persone che sono rimaste senza stipendio da diverso tempo. Vedremo un po' come andrà avanti il campionato del Fano Calcio, che purtroppo è in difficoltà in fondo alla classifica. Il passaggio di proprietà all'ex patron del Grosseto, che aveva trattato anche l'acquisto della Viterbese, è stato ufficializzato proprio ieri sera. E questa è la notizia appunto che volevo darvi. Approfitto per fare un aggiornamento sulla Vis. La Vis gioca per la salvezza e per il campanile. Con la fermana sarà una gara emozionante, così l'ha definita banchieri. Questo è un punto d'articolo che riguarda i cugini pesaresi. E di cugini pesaresi si parla molto oggi sui giornali a proposito del carnevale. Perché proprio un pesarese è stato nominato ieri sindaco del carnevale di Fano. E non è un sindaco così tanto per farlo. È un sindaco previsto dallo statuto delle comune di Fano. Infatti la norma dice che dal giovedì grasso al martedì grasso successivo, l'ultimo giorno di carnevale, il sindaco effettivo, quello in carica, cede la fascia al sindaco del carnevale. E in questo periodo è vietata la convocazione del consiglio comunale. Per cui al sindaco del carnevale rimangono tutti i poteri. Tutti i poteri per fare ordinanze, dare disposizioni, eccetera. Comunque, dice sempre Massimo Seri, è la decima volta che faccio questo passaggio di fascia. Ma alla fine i problemi ritornano tutti a me. E beh, questo fa parte anche del carnevale. I giornali parlano diffusamente del giovedì grasso, festa che si è tenuta ieri in piazza 20 settembre. Vediamo anche il Corriere Adriatico. Ecco qua il titolo. Rabba Ken, sindaco per sei giorni, governerà nel tempo del carnevale. La cerimonia con la maschera pesarese. Alla presenza anche del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che insieme al sindaco di Fano, Massimo Seri, sono saliti sul palco. E è salito sul palco con le due maschere. Da una parte il Voulon, la maschera tipica del carnevale di Fano. E dall'altra parte il Rabba Ken, con la sua consorte, la Cagnera. Le maschere tipiche del carnevale di Pesaro, che rimane un carnevale parocchiale e quindi omaggia il carnevale di Fano, ha detto proprio il sindaco Ricci, che ovviamente è molto più sontuoso, molto più celebre, molto più animato. E vediamo le altre notizie. Vediamo anche, prima di chiudere il carnevale, invece, l'arrivo di Beatrice Venezzi, perché è la madrina del carnevale, la direttrice, il direttore d'orchestra, così come ama farsi chiamare, terrà un concerto dirigendo l'orchestra sinfonica Rossini al Teatro della Fortuna. alla festa fanese, il contributo dell'orchestra Rossini, che stasera alle ore 21 terrà un concerto di carnevale sul podio. Ovviamente il direttore, viene sempre la direttrice, il direttore Beatrice Venezzi, che ha un curriculum veramente invidiabile. Ed ecco qua, invece, le altre notizie. Le altre notizie ci aggiornano sulla situazione della campagna elettorale, soprattutto sulle trattative tra i partiti all'interno del centro-sinistra. Non si rinuncia alla speranza di fare una coalizione unita tra il centro-sinistra, da una parte i cosiddetti progressisti, dall'altra ancora divisi da diverse divergenze. Ebbene, c'è stata un'assemblea del Partito Democratico nei giorni scorsi nel nuovo centro-civico di Gimarra. Ci sono state 35 le presenze che, invece di decidere ancora sulle primarie o non primarie, hanno dato mandato, ancora una volta, al segretario del partito, Renato Claudio Menardi, di fare un ultimo tentativo nei confronti dei progressisti per cercare di unire la coalizione. E forse da tramito si pone anche azione, azione che si era schierata in un primo momento con i progressisti, ora si pone invece a metà strada, cercando anch'essa di unire le due parti, le due composizioni di tutto l'ambito che contrasta il centro-destra. Quindi inizia una nuova missione per Renato Claudio Menardi e vedremo quali saranno i cambiamenti che verranno offerti al centro ai progressisti per cercare di fare cambiare loro o almeno un atteggiamento risoluto, intransigente, per così arrivare almeno ad un compromesso. E poi vediamo le proteste della comunità di Carrara. Le comunità di Carrara, sappiamo, è oberata dai problemi di carattere ambientale suscitati dalla centrale elettrica che ora viene implementata per la costruzione di un nuovo impianto da cui parte l'Adriatic Link, ovvero l'ettrodotto sotterraneo che unirà le marche con l'Abruzzo, sotterraneo fino alla riva del mare e poi si immergerà nelle acque per risalire appunto nell'Abruzzo. Sarà un acquedotto, sì, un elettrodotto sotto il mare, sotto l'acqua, non un acquedotto ma un elettrodotto. E poi restano forti dunque le proteste dei cararesi che vogliono una compensazione, una compensazione importante ai loro problemi dai disagi sofferti per la centrale, centrale che ancora continua a emettere rumori molesti e continua ancora a disturbare la popolazione. Insomma ci sono ancora diverse case attorno alla centrale di Carrara che soffrono i residenti di questa situazione. E quindi si invita l'amministrazione comunale. Abbiamo anche Davide Del Vecchio, uno degli esponenti dei cararesi che solleva il problema. Abbiamo delle critiche nei confronti dell'amministrazione comunale accusata di una certa inerzia nei confronti di questi problemi. Insomma non ci sarebbe fatta così sentire in maniera decisa, in maniera vincolante nei confronti della ditta della grande società interna che fa questi lavori. Musica troppo alta a Montegiove, residenti ricevuti dal sindaco, fattori, assessori all'ambiente, un'unica soluzione è quella di mediare. Sembra che tutta l'oasi di pace che caratterizza la zona agreste di Montegiove venga disturbata da alcuni agriturismi che cominciano a organizzare feste, animazioni e che durano poi fino a notte inoltrata. E chi ama invece la solitudine, il silenzio appunto di questi posti incantevoli protesta. Allora sono andati i residenti in comune e hanno chiesto dei provvedimenti risolutivi che vietano questi baccani, queste animazioni durante la notte. E l'assessore ovviamente dice c'è un regolamento, bisogna fare rispettare il regolamento dell'inquinamento sonoro, ma il buon senso propone di trovare una mediazione, un equilibrio tra le due esigenze. Un po' quello che accade d'estate in zona mare. Insomma ci sono i turisti che vogliono riposare all'interno degli alberghi, ci sono i giovani che vogliono fare festa, vogliono fare musica, tutto volume, fino a notte inoltrata. Anche qui bisogna mediare, equilibrare le diverse esigenze. La scuola sprigiona energia e taglia la bolletta. E siamo a San Lorenzo in campo. Vediamo qui la fotografia del sindaco dell'Onti. Ebbene a San Lorenzo è già in funzione un impianto montato sul tetto dell'edificio che ospita la scuola media di Via Nenni. Permetterà di risparmiare, pensate, 7.500 euro all'anno. Il sindaco con la nuova installazione ha detto forniamo corrente anche al Pala Campus. Insomma un investimento fruttuoso, proficuo, da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda questa struttura. Poi vediamo ancora le pagine interne del resto del Carlino. Siamo a Durmino. Vediamo qui un intervento del magnifico rettore della Università, Giorgio Calcagnini, che illustra il piano di sviluppo dell'intera Università. Un piano strategico che si articola nell'area didattica, ricerca, terza missione e CIOS. CIOS vuol dire comunità, inclusione, organizzazione e sostenibilità. Ognuna di questi obiettivi è degno di essere perseguito. E secondo il rettore il piano tra il 2024 e il 2026 è molto più concreto, più chiaro, più realizzabile rispetto al precedente. L'obiettivo è restare comunque sulla dimensione di 15.000 studenti che frequentano l'Università di Urbino. Secondo il rettore è la quota giusta che compensa un po' il calo di popolazione dei residenti della città ducale. Dovremo però aumentare, ha detto il rettore, le residenze universitarie e servirà anche un collegamento migliore con la costa. Queste sono le esigenze di Urbino, che sappiamo che è un centro collinare dell'entroterra che deve essere meglio collegato con la costa, sia dalla parte di Fano che dalla parte di Pesaro. E intanto Urbino ha trovato una bella ribalta anche alla BIT, alla Borsa del Turismo di Milano. Siamo arrivati alla BIT con la qualifica vera e propria di capoluogo di provincia. Provincia di Pesaro-Urbino. E Urbino veramente è stata equiparata a Pesaro con una nuova sede della provincia che viene ancora evidenziata in quest'altro articolo di Spalla. Sede della provincia in città, buona l'iniziativa di Paolini. E' una dichiarazione questa fatta dal segretario del Partito Democratico che plaude al presidente dell'ente. Insomma anche i partiti sono d'accordo ovviamente per questa nuova sede. E poi si parla dell'ospedale di Cagli. L'ospedale di Cagli che viene valorizzato, viene finalmente riattivato con un nuovo presidio del valore di 15 milioni di euro. Questo nuovo presidio fatto nella città cagliese comprenderà un piano interrato, due piani fuori terra e una superficie complessiva di 3.900 metri quadri. Avrà a disposizione 36 posti letto di cure intermedie e servizi dedicati all'emergenza urgenza territoriale. La cosa più importante per l'entroterra, perché insomma poi ricorrere con gli ospedali della costa richiede molto molto più tempo. E prima di chiudere il resto del calino voglio segnalarvi anche questa bella fotografia. Si tratta di Giuditta Melucci, che è la nuova comandante della stazione dei Carabinieri di Fossombrone. È originaria di Monte Felcino. Viene da Monte Felcino la nuova comandante della stazione dei Carabinieri di Fossombrone. Si tratta del maresciallo capo Giuditta Melucci, 33 anni. Da lunedì scorso il nuovo comandante della stazione di Fossombrone proviene da Brescia. Si è trasferita nella stazione dei Carabinieri di Fano, dove già si è distinta per un prestigioso incarico che ha svolto con dedizione, e mostrando poi anche delle elevate capacità professionali che risultano da un lavoro veramente intenso e proficuo. Insomma, è un Carabiniere veramente che si è fatto notare per acume e poi per intelligenza. Caccia al cinghiale, anacronistica. Con la fine del mese di gennaio, è terminata nelle province di Pesaro-Urbino, ma anche in Ancone e Macerata, la caccia al cinghiale. Sull'argomento interviene l'associazione ambientalista Lupus in Fabola, che ovviamente critica un po' le normative che sono in atto e ne propone altre, più da più spiccato timbro ambientalista. E allora chiudiamo il resto del Carlino per aprire il Corriere Adriatico. Abbiamo visto la prima pagina dedicata al Carnevale e vediamo che subito a fondo pagina c'è invece l'articolo di politica che riguarda un nuovo tentativo perpetuato dal Partito Democratico, ma anche da Azione, abbiamo visto, per un'intesa in extremis nei confronti dei progressisti per verificare la possibilità di attuare un campo largo per presentarsi uniti alle prossime elezioni amministrative. Rischio amianto al Olivo, al cimitero dell'Olivo. Ebbene, un cittadino fanese che era così, era andato al cimitero per visitare la tomba di un proprio parente, ha notato su una delle colinette che caratterizzano l'immagine del cimitero dell'Olivo, spuntare una struttura che insomma sembra proprio amianto, una struttura che è stata inserita a tutela del drenaggio delle colinette anche per trattenere le frane che avrebbero potuto determinarsi già all'inizio della costruzione di tutto il cimitero, nei primi anni 90. L'assessore a fattori si è subito attivata in merito a questa segnalazione e ha attivato l'assessorato ai lavori pubblici per cercare di rimediarvi, ma la cosa era già stata notata dal nucleo ambientale della Polizia Locale di Fano. Dobbiamo dire che la Polizia Locale di Fano ha questa sezione che si occupa appunto della tutela ambientale del paesaggio, del territorio in maniera quasi singolare rispetto alle altre polizie locali delle Marche ed è veramente un privilegio per Fano poter disporre di questo nucleo di polizia che è comandata dal Vicepresidente Mango. Non è sfuggito appunto ai cittadini questa situazione, ora bisogna appurare veramente se si tratta amianto oppure se si tratta fibro cemento. Però insomma il sospetto che sia amianto non è peregrino, insomma sembra proprio che sia questo materiale così pericoloso, anche perché la struttura è piuttosto degradata. Da una parte la vediamo qui in questa fotografia qui al vertice all'inizio appunto della paratia vediamo che è degradata e si è staccata e quindi alcune fibre potrebbero essere già volatilizzate in aria. Missione in Tanzania per l'Africa Chiama nella sede fanese del Long disponibili tre posti per il servizio civile. Insomma i giovani che vogliono provare questa esperienza hanno questa opportunità. vediamo poi sul Corriere Adriatico l'articolo che riguarda il nuovo ospedale di comunità arrivate sei offerte per Cagli la Regione ha nominato la Commissione per la Scelta un investimento come già abbiamo detto di 15 milioni di euro. Sulla Val Cesano vediamo Mondolfo appuntamenti in tre città la rassegna ora è itinerante si tratta della terza edizione della rassegna come un libro all'aperto una rassegna letteraria organizzata dall'amministrazione comunale patrocinata dalla Regione ebbene non sarà solo Mondolfo a ospitare questa rassegna ma ci sono anche due importanti città delle Marche come Ancona e Ascoli Piceno quindi un'iniziativa che si propaga un po' in tutta la Regione. vediamo la pagina di Senigallia gli albergatori e gli eventi fai da te si parla di promozione turistica in questa pagina e si pone l'accento soprattutto su un raduno motoristico che vanta molti molti appassionati quello delle Harley Davidson al via con il ruggito il rumore che insomma desta emozioni a chi è appassionato di motore quando si mette in moto la Harley Davidson il primo lancio del portale Senigallia Incoming è il raduno delle moto di giugno piene 1500 stanze già gli albergatori in fuga da booking si promuovono con gli eventi da soli con Senigallia Incoming insomma si è fatto veramente un settore appartato autonomo non è più quello di booking e ognuno fa per conto suo in modo che le cose poi vede i risultati che sta ottenendo e non magari quelli che vengono su dal mucchio e non si capisce bene poi come sono stati ottenuti Pesaro le pagine di Pesaro si parla delle case in affitto per alloggi mordi e fuggi il giro è di oltre 10 milioni insomma sembra che a Pesaro in modo particolare quest'anno quando Pesaro è capitale nazionale della cultura ebbene in modo particolare quest'anno vanno molto le case in affitto breve quelle che ospitano turisti per un breve periodo di tempo ma anche studenti anche persone che hanno una così un contatto non molto lungo con la città di Pesaro il boom viene evidenziato dalla Airbnb una community che insomma mette a disposizione delle case la si contatta per trovare degli appartamenti ebbene Airbnb ha dato un'ulteriore spallata al settore delle lucazioni a lungo termine e ha fatto risaltare ha fatto poi sviluppare proprio quelle a corto termine quelle che fanno incassare anche di più magari ai proprietari delle abitazioni gli agricoltori ancora in protesta gli agricoltori smobilitano il sit-in ma la protesta non finisce ebbene il raduno che si è svolto a Pesaro con tanta partecipazione di agricoltori del nostro territorio ebbene ora viene smobilitata ma in realtà tutti rimangono sul fronte della protesta i trattori oggi abbandonano il presidio davanti al casello della 14 ma sono annunciate altre iniziative e c'è anche una dichiarazione da parte del presidente della commissione agricoltura alla camera dei deputati Mirko Carloni il quale dice siamo con loro e poi la consigliera regionale Micaela Vitri del partito democratico replica no non avete fatto nulla per aiutarli anche qui il dibattito politico interviene su una situazione che in realtà è una situazione di carattere economico siamo in conclusione l'ultimo articolo che vi segnalo è quello che riguarda Cotignola 2 questa nuova struttura sanitaria privata che sorge a Villa Fastigi ultima tappa prima del via postiletto contro la fuga dei pazienti una struttura che dovrebbe contrastare la mobilità passiva e questo è tutto per oggi a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento alle 7 di domani per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera con Occhio alla Notizia il TG di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci